Questa mattina Quarto si è svegliata con i mezzi della Multiservizi ancora in circolazione. Per grossa parte della città, ormai abituata alla raccolta porta a porta, vedere ancora per strada le tante buste contenenti plastica, alluminio e vetro, i materiali raccolti tra il martedì e il mercoledì, ha prodotto uno strano effetto. Causa del ritardo, lo stato di agitazione dei dipendenti, poi rientrato a causa di un ritardo di sette giorni nei pagamenti degli stipendi. La Multiservizi è in liquidazione da tempo e il passaggio di mano dei suoi conti ha prodotto il ritardo per questa mensilità. L'intervento del Comune ha fatto sì che entro le prossime 48 ore i dipendenti percepiranno le spettanze base, in attesa che i curatori fallimentari, neosubentrati, avranno chiaro il quadro della situazione per pagare tutte le integrazioni. Questo mentre i dipendenti già minacciavano di proseguire lo stato di agitazione anche nella mattinata di domani, quando la situazione sarebbe stata ben più grave dal punto di vista igienico, visto che si raccoglie l'umido. Nel frattempo si procede con le soluzioni per il futuro piano di raccolta dei rifiuti nella città di Quarto, che sarà privatizzato. Nel breve termine sarà affidato il servizio provvisorio per una durata di 5 mesi al massimo. Il primo bando di gara ha avuto esito negativo. L'unica ditta partecipante è stata bloccata a casa di un cavillo burocratico. La Multiservizi coprirà il servizio fino al 31 luglio, data ultima entro cui sarà definito il nuovo bando. Contemporaneamente si lavora per il bando a lungo termine per il servizio di raccolta, che avrà durata di tre anni. Domani avrà il via Liter, che durerà almeno fino ad ottobre. Grazie. Grazie. Grazie.